Siamo appena a Sant'Andrea, quella che vedete è la chiesa di Santa Maria del Soccorso, una delle chiese colpite dal sisma dello scorso 6 aprile. Questa è Piazza Vittorio Veneto, sempre appena a Sant'Andrea, che come potete ben vedere è ancora transennata. Diverse settimane sono passate, Sindaco Fabri, ma la situazione è rimasta del tutto immutata. Avete chiesto un dovuto sostegno per poter rimettere in sicurezza la chiesa e per quindi poter rimettere in sicurezza tutta la zona circostante, ma nulla è stato fatto e delle abitazioni sono ancora sgomberate. Sì, la chiesa come si vede è molto grande, è una bella chiesa, però le sue dimensioni messe al centro del paese hanno comportato lo sgombro di 6 abitazioni, di 2-3 piazze e le vie circostanti. Da quando fu il terremoto, dopo averci detto che questo è pericolante, nessuno ha più fatto niente, non abbiamo notizie. Sembrava che iniziassero i lavori, poi sono stati interrotti, non so bene per quale motivo, ci stiamo ancora aspettando di ridare un minimo, il paese ci sta morendo, perché abbiamo tutto interrotto, tutto chiuso. Il problema è che sembra che poi nessuno vi stia dando delle rassicurazioni o delle informazioni su come fare. No, perché noi siamo fuori dal cratere, siamo fuori dal com, sembra che il terremoto qui non ci sia stato. Invece c'è stato e ha fatto danno, abbiamo sgombrato quasi 40 persone. E diversi cittadini sono anche esasperati da questa situazione. Io ho due o tre giorni fa venuto in una delegazione, c'è uno che mi viene tutte le mattine, un paio stanno proprio qui in zona aspettando di parlare con me, non so più che dirgli. Ed infatti ci sono famiglie che hanno dovuto trovare alloggi alternativi, di fortuna, senza alcun sgravo, dovendo sostenere integralmente tutti i relativi costi, ad esempio l'allacciamento del metano. Il metano, la luce, l'acqua, perché era una stanza senza nessun servizio, quindi ho dovuto rifare tutto da capo, pagare. Quando sono andato allo sport, ho detto, signore, purtroppo lei non ha diritto a niente, deve pagare. Anzi, mi ha detto, nell'utenza che c'è nella casa terremotata, se lei non vuole pagare, se la faccia tagliare. In mattinata lei incontrerà il presidente della regione Chiodi per altri motivi, però lei ovviamente risolleciterà su questo aspetto. Sicuramente risolleciterò, anche se penso che più che dalla regione, qui dipende dalla sovrintendenza, dalla protezione civile, perché è un monumento protetto, quindi in qualche modo qualcuno deve intervenire. C'è l'altra chiesa che è decadente da 40 anni, io ho detto, o la demolite o l'aggiustate, perché se sta così da un momento all'altro può crollare, c'è pure delle case sgomberate, non lo so se è il problema di soldi o quello che è, però sono due grossi problemi per un paese così piccolo. Grazie a tutti.